Buonasera Alessandra Moretti, la portavoce vista da vicino, vista da vicino questa sera a X News. Buonasera Moretti, ben ritrovata per la prima volta a X News sotto un'altra veste, quella di portavoce del Comitato per Bersani. Dobbiamo vedere anche una foto, l'abbiamo vista prima anche nella copertina con Bersani, la foto numero 13. Vediamo se la regia me la manda un attimo, poi le faccio la domanda successiva. Ecco qua, Moretti con Bersani, ma è vero che ha detto che è bello come Cary Grant? Allora, questa cosa qui è veramente simpatica. Allora io ho partecipato a una trasmissione radiofonica molto molto spiritosa, che è la Zanzara Radio 24, e lì mi hanno chiesto, insomma, tra Renzi e Bersani, insomma, chi ti piace di più? Mi hanno fatto una domanda stupidina, a cui ho risposto con una battuta ironica. Io ho detto, ma insomma, dico Bersani, dico tutta la vita, ma l'avete visto Pierluigi Bersani da giovane con i capelli? Con i capelli. Assomiglia a Cary Grant. E questa cosa, detta, insomma, in maniera così ironica, spiritosa, ma poi però affiancando i due personaggi, effettivamente qualche somiglianza c'è. Senta, ma cosa le dice Bersani? Le dice che sta lavorando bene? C'è qualche screzio? Magari quando sbaglia le legislature, mi pare, come è successo, no? Ha detto che ne aveva fatte due, invece ne ha fatte tre, poi invece ne ha fatte due e mezzo, insomma. Ma allora, devo dire questo, la grande sorpresa che abbiamo ricevuto, noi siamo tre giovani, tre giovani per lo più, come diceva lei, sconosciuti, nel senso che forse quella più nota ero io, ma per il ruolo amministrativo che ricoprivo. Ci ha messo proprio in mano la sua campagna per le primarie, cioè ce l'ha proprio detto, ragazzi, io... Ragazzi? Ragazzi, come lo dice lui, no? Ragazzi. Io devo fare segretario del partito, devo occuparmi di cose importanti, la riforma elettorale, l'Europa, il lavoro, eccetera. Mi metto nelle vostre mani e delego a voi completamente questo compito. Allora, questa cosa ci ha ovviamente stupito, perché non si direbbe, di solito si pensa a un leader del partito più grande italiano che tende a controllare tutto. Devo dire che io non ho mai ricevuto una telefonata di Pierluigi Bersani che mi diceva, guarda che hai sbagliato, devi correggere il tiro, ecco. Per cui, insomma, grande fiducia reciproca. Poi lui sa che ha scelto persone poco conosciute e anche poco politiche e lo ha fatto perché va bene così, perché anche sbagliando non solo si impara, ma si dà l'idea di essere delle persone vere e non costruite. Autentiche, certo. Ecco qua, state brindando con Bersani, si ricorda... Sì, questo è il momento in cui noi, alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, abbiamo presentato il comitato e dopo la conferenza stampa abbiamo brindato insieme, insomma. Ecco, lei ha detto che Bersani, fino adesso insomma non le ha tirato le orecchie, non l'ha criticata, però lì fuori sono in molti a cogliere lo sbaglio, pronti a intervenire. Ha già potuto verificare questo tipo di atteggiamento? Questa è stata una delle cose che mi ha stupito di più e devo dire mi ha anche fatto molto soffrire. All'inizio, io i primi giorni, devo dire, ero molto disorientata. Roma è una città difficile e quell'ambiente, l'ambiente politico, l'ambiente anche giornalistico, è un ambiente spietato, nel senso che non ti perdonano nulla. E purtroppo devo dire anche che ho riconosciuto una certa misoginia, un certo maschilismo nei confronti di una giovane donna, di una ragazza di bell'aspetto. Ecco, lì c'è un accanimento maggiore. E poi anche una ragazza che arriva dalla provincia, dalla provincia Veneta, sicuramente questo... E' proprio così, l'ho proprio percepita questa cosa. Mi ha fatto star male ma dall'altro lato però mi ha anche, diciamo, riempita di forza nel dire no. Allora c'è qualcosa che va cambiata, che va migliorata. Bene, mi fermo per un paio di minuti di pubblicità, poi continueremo a conoscere Alessandra Moretti. A tra poco.